Antonello Bireaco di Confindustria, Catania Capitale? Capitale per i grandi investimenti e per le innovazioni tecnologiche. ST Macro Electronics, stabilimenti nuovi entro il 2024 con oltre mille assunzioni. Enel Green Power, primo stabilimento in Europa per la produzione di pannelli fotovoltaici. E tanti altri investimenti ci dicono che siamo la vera Milano del Sud, che siamo la vera Capitale, ma non solo di quella che è un'imprenditoria sana e produttiva, ma della reale ripresa del nostro territorio. Economia perché il 23% del PIL della Sicilia esce proprio da Catania. Oltre 2 miliardi di euro esportati solo nel 2022. Questi sono numeri da grande capitale economica che ci danno ancora di più lo sprono e la possibilità di fare crescere le nostre piccole e medie aziende, che sono il vero zoccolo duro della nostra economia. Capitale dell'innovazione. Capitale dell'innovazione, grazie anche a un Ateneo molto importante che ci dà la possibilità di poter usufruire di grandissimi cervelli il nostro vero capitale umano, che non può essere mai sostituito dalle intelligenze di cui oggi se ne parla e di cui realmente l'Italia ne ha bisogno, la nostra Sicilia ne ha bisogno per mai dimenticare che il capitale umano è il vero motore, il vero volano delle nostre aziende. Cosa chiedete ai commercialisti? Commercialisti, dicevo poco anzi, con noi hanno un rapporto, non dico giornaliero, ma quasi, con l'ordine dei commercialisti di Catania. Commercialisti che hanno anche con noi firmato tanti protocolli di intesa al fine di poter essere oggi dei partner delle nostre aziende. Il commercialista oggi non è per noi un consulente fiscale, ma è un vero volano di innovazione, anche perché l'innovazione passa anche da quel mondo lì, dei numeri e delle purtroppo tante veche fiscali.